Vedete dove salgono quei topi? Quella è la pietà di Michelangelo. Mentre fra questi scarti di pesce c'è lo stupendo Cenacolo di Leonardo. Non prendersi cura dell'arte è come buttarla via. Partecipa alla raccolta fondi per conservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale dal 27 settembre al 5 ottobre nelle giornate dell'arte. La bellezza dell'Italia sarà anche opera tua. www.fondazionecittaitalia.it Numero verde 800 00 17 22 in collaborazione col segretariato sociale Rai.